ciao ragazzi è arrivato un pacchettino per me per la zia sabri questo è stato anche rapido è è stato rapido ad arrivare adesso lo apro anche voi l'avevo già quasi aperto perché mi sono fatta prendere un po dalla fretta allora c'è tutto c'è tutto pacchettino contiene questo abitino blu dark cobalto che è così allacciato al collo con scollo dietro dietro allo scollo e poi agli spacchetti questo abitino qui è perfetto per fare un video per patria venite a vederlo su patria poi nel pacchettino ci sono anche questi se li ha regalato un amico dopo che ha visto il mio video con i guanti rossi ha voluto regalarmi questi di satan allora adesso io li provo provo questi e li abbiano a questa donna lunga con spacco poi potrei mettere anche le scarpe rosse le calze e i reggi calze allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.